voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio cari simblu ragusa amiche amici che siete in ascolto un caro saluto da denise arcieri oggi abbiamo il piacere di avere studio don vincenzo guastella direttore del servizio per la pastorale giovanile con lui parleremo del sussidio preparato dall'equip del servizio per la pastorale giovanile in occasione della quaresima che proprio ispirato alla serie dei romanzi le cronache di narnia di clave staples lewis ciao vincenzo innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito ciao denise e un caro saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici il sussidio è ispirato alle cronache di narnia come abbiamo poc'anzi anticipato nello specifico al libro il leone la strega e l'armadio che manifesta proprio una profonda dinamica cristiana centrata proprio sul mistero pasquale le cronache di narnia infatti possono essere considerate proprio un viaggio di formazione cristiana a tutti gli effetti penso che la scelta di ispirarvi a questa serie di romanzi è stata motivata da questo pensiero ma spiegaci un po meglio tu com'è nata l'idea come equip di pastorale giovanile cercavamo di incentrare la tematica cristologica di questa quaresima facendo riferimento alle letture del vangelo dell'anno b sotto un punto di vista cristologico e pensando un pochettino abbiamo individuato questo romanzo di lewis che come sappiamo un po questo autore non era subito cristiano e ha maturato la sua fede in età adulta però ecco all'interno di questo romanzo lewis mette in luce tanti riferimenti alla anche fede cristiana cattolica soprattutto in alcuni personaggi come ad esempio aslan il leone che è un allegoria della figura di cristo perché questo leone anche come lo indicavano i profeti gesù nell'antico testamento come il leone di giuda cioè colui che verrà a liberare e salvare molti di questi riferimenti li troviamo nelle cronache di narnia allora abbiamo pensato che il riferimento a questo romanzo potesse aiutare in un linguaggio un po più moderno giovanile a tradurre ancora meglio quello che il vangelo già benissimo esplicita ed espone nella nostra vita per entrare nel mondo di narnia è necessario varcare una soglia la porta di un armadio ed è questo l'invito anche che state rivolgendo ai giovani tu dicevi proprio entrare nel mistero cristologico e state chiedendo di iniziare questo viaggio di formazione partendo proprio dalla voglia di mettersi in gioco rivedere un po il loro rapporto sia con dio ma anche con i propri coetanei con gli altri per arrivare ad essere poi dei veri autentici testimoni della luce della resurrezione ecco per intraprendere questo viaggio di formazione per varcare questa soglia quale dovrebbe essere il presupposto principale questo viaggio inizia proprio da questa soglia che è l'armadio di narnia dove i quattro giovani personaggi scoprono un mondo diverso da quello in cui vivevano che potremmo dire il mondo spirituale attraversato da questi anni di gelo proprio per la cattiveria il peccato umano tutto quello che concerne la cosa bella è che all'inizio di questo cammino incontrano un lampione con la luce che questo lampione rappresenta la vita che sempre c'è anche nei momenti di buio e di sofferenza ecco secondo me l'animo con cui uno deve iniziare questo cammino è proprio innanzitutto la curiosità la curiosità di scoprire qualcosa di bello e di nuovo che c'è già dentro di noi ecco i giovani nel momento in cui si predispongono a questo cammino con curiosità quella sana curiosità possono iniziare a fare un cammino non solo verso cristo ma innanzitutto all'interno di se stessi perché il cammino quaresimale è proprio questo cammino interiore di conversione cioè di ricentrare la propria vita scoprire a che punto si è arrivati e da lì ripartire insieme con cristo verso la meta finale che è proprio la resurrezione le cronache di narnia sono un racconto che coinvolge intimamente il lettore facendogli vivere proprio con esperienza significamente cristiana come abbiamo più volte detto ma sprigionano anche la potenza immaginativa del lettore la fede anche bisogno della potenza immaginativa e se sì in che misura essere fantasiosi in un percorso di fede più che di immaginazione io parlerei di creatività la fede ha bisogno di creatività non è qualcosa calata dall'alto che uno deve accettare in maniera sterile ma bisogna ognuno con la propria sensibilità col proprio vissuto anche con le proprie grazie e i doni che il signore ha fatto bisogna avere creatività per poter trasmettere tradurre attraverso la propria vita il dono grande che il signore fa ognuno di noi cioè l'incontro con questo dio con questo gesù cristo che interpella la mia vita quindi fantasia tradotta con creatività immaginazione più che altro è questa creatività questo mettere attraverso la propria esperienza personale questo rapporto con dio parliamo adesso di come è strutturato nello specifico il sussidio abbiamo la parte del commento la liturgia degli obiettivi magari facendo proprio un focus per la prossima domenica di quaresima che è la quinta domenica di quaresima dove l'obiettivo è imparare a fidarsi di dio anche quando non comprendiamo il suo progetto lo schema del sussidio è molto semplice abbiamo iniziato impostando la lettura del vangelo della domenica e poi una breve meditazione per cercare anche di far comprendere meglio il messaggio che il vangelo vuole indirizzare ai giovani e poi un'attività quindi mettere in pratica quello che si è ascoltato quello che si è anche interiorizzato attraverso la meditazione e poi una proposta di preghiera con cui concludere quell'incontro che ogni gruppo di giovani fa durante il cammino quaresimale la quinta domenica di quaresima come detto tu ci porta la parola di dio a imparare a fidarsi di dio anche quando non comprendiamo il suo progetto questo è una tematica diciamo molto importante perché tante volte l'immagine che abbiamo di dio è di un dio che deve aggiustare tutte le situazioni deve essere lui quello che deve intervenire e mettere a posto tutto e quando questo non accade e quindi ci troviamo anche a non comprendere il perché di determinate situazioni anche di determinate cose che accadono nella nostra vita l'immagine di dio viene deformata non abbiamo più questo contatto diretto ci allontaniamo perché o pensiamo che dio non esiste oppure che non ci ha ascoltati la bellezza proprio attraverso anche quello che la parola di dio della quinta domenica ci dice ecco questo chicco di grano caduta a terra che se non muore non porta frutto quindi dietro a una esperienza negativa come la morte la sofferenza dio trova sempre la strada per far rinascere qualcosa di bello la vita questa quinta domenica ci porta proprio a scoprire questo anche nelle situazioni più difficili della nostra vita dio non permetterà mai che quella sia l'esperienza finale che la morte il peccato la sofferenza debba mettere un punto su quello che invece dio ha aperto come vita attraverso gesù cristo questo ci permette e permetterà anche giovani di guardare tutte le esperienze sia quelle belle che anche quelle negative con un occhio diverso vincenzo io prima di salutarti vorrei chiederti un messaggio per i nostri giovani e le nostre giovani proprio che stanno vivendo questo momento che hanno intrapreso questo percorso di formazione il mio augurio per tutti i giovani è di vivere questa quaresima con il dono di questa creatività questa possibilità che hanno di riconoscere attraverso uno strumento semplice come quello del sussidio attraverso questi piccoli indizi che abbiamo dato riconoscersi amati riconoscersi perdonati e soprattutto importanti perché come nelle cronache di narnia il leone aslan dona la vita per poter liberare anche il traditore così gesù cristo ha fatto per noi e con noi attraverso il suo amore grande sulla croce gesù ci ha liberato da tutto quello che è il nostro fallimento da tutto quello che è il nostro peccato la nostra fragilità e anche se oggi continuiamo a fare questa esperienza di fragilità la cosa che ci deve dare la forza di andare avanti è proprio sapere che quel sacrificio è l'unico sacrificio che ci ha già liberati quindi per non cadere di nuovo nella disperazione noi dobbiamo ritornare a questa verità che gesù ha già perdonato e liberato i nostri peccati questo deve dare la forza di scommettere anche sulla propria libertà che gesù cristo ha pagato a caro prezzo che è il suo sangue e io ringrazio tutti i radioscoltatori e le radioscoltatrici per averci seguito a presto denise arciari e grazie vincenzo per essere stato con noi grazie a te a tutti i radioscoltatori e le radioscoltatrici avete ascoltato voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio caris in blu ragusa